Ho pagato altri 4 costruttori per fare altre 4 sfide con 4 temi diversi Per ogni tema abbiamo una costruzione da 1€, una 10€ e una da 100€ E anche oggi campioni andremo a scoprire assieme se siamo stati truffati o meno All'interno di questo nuovo video delle costruzioni su Minecraft E anche oggi non vi spero il tema delle costruzioni Ma vi dico soltanto che il primo è un tema sia Draghi che ho scoperto ragazzi Lo scorso episodio che vi sta piacendo tantissimo ma anche tema Dragon Ball L'ho voluto unire perché anche Dragon Ball vi piaceva tantissimo Quindi ho messo il tema Dragon Sharon per questa prima costruzione Per il primo costruttore e ragazzi partiamo già subitissimo a bomba Perché questo qui è il Dragon Sharon da 1€ Beh io direi che già siamo avvenuti molto molto bene Quanto cavolo è figo questa costruzione Partiamo subitissimo dal fatto che comunque è una pixel art Quindi è una costruzione che è profonda 1 Ma è in sé ragazzi il Dragon Anche però gli occhietti l'ha fatto io non ci credo Guardate gli occhi escono fuori di uno È un piccolo dettaglio molto 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 bello Però il fatto è che comunque essendo sempre una pixel art Ma bella enorme e mi rende proprio idea che sia il Dragon Sharon Spero che voi capiate di chi io stia parlando Ma comunque parliamo proprio di un drago enorme Mi dà proprio idea comunque di essere un drago Anche se non so proprio che è quel tipo di drago E mi piace veramente tanto Dai come costruzione noi ragazzi oggi partiamo veramente Molto 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 bene Andiamo in quella da 10€ Beh no mi sto spoilerando qua da 100€ Cavolo ed era bellissima Vabbè fai niente fai niente Guardiamo questa qua da 10€ Direi campioni Questa qua da 10€ Carina Non mi fa impazzire molto in realtà L'unico blocco questo qua di lime terracotta Avrei utilizzato la lime concrete piuttosto che la lime terracotta E la cosa che meno mi convince sono gli occhi Paradossalmente ragazzi nonostante questa qua sia una costruzione Fatta da 10€ quindi un po' più in 3D E questa qua pixel art Mi piace molto di più questa qua da 1€ Il che è un po' un peccato campioni Perché veramente comunque è fatta bene Non c'è niente da dire a questa qua 10€ Però mi sembra più quasi un serpente Però sarete voi qua sotto nei commenti a giudicare Se ho ragione o meno nella mia visione di questa costruzione Non so se vale 10€ che ho pagato Ma andiamo in quella da 100€ che mi ero spoilerato E sembrava una figata incredibile 3, 2, 1 Oh che figata Beh ragazzi qua non possiamo rimanere delusi Mamma mia Il che ragazzi rende questa costruzione veramente spettacolare Il fatto che sia gigante Io non ho parole veramente Perché questi costruttori qua Nelle costruzioni a 100€ ultimamente Stanno facendo veramente dei lavori Clamorosamente fighi Cioè poi guardate la coda Quanto cavolo è fighissima Perché parte da questa punta che c'è qua sotto Ragazzi guardate che bella che è Parte proprio da quella puntina lì E poi un codone tutt'unico Tranne che per le braccia Che guardate che figata Che sono le zampe, le braccia Non so come definirle Sono bellissime la bocca Con questi super baffoni Che figata Non mi ricordo se nella costruzione di 10€ Sono i baffi No ma anche nei baffi In quella di 10€ Beh comunque non c'è niente da dire ragazzi Col primo tema Partiamo super 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 bene Il secondo tema È un tema che ormai vi sta sempre un sacco a cuore Che non posso non mettere nel video delle costruzioni Tema Sonic Ho lasciato libera scelta Al costruttore di questo tema E parte con Sonic e Tails assieme Quindi o sarà una costruzione a tema Sonic O a Tails O pensate che figata entrambi Ovviamente consigliatemi nei commenti Se avete altri temi Però di per sé Quella da un euro Classica ragazzi Sonic classico Pixel artoso Tails ragazzi Posso dire onestamente Che mi piace molto di più In questo caso Rispetto che al Sonic Mi piacciono entrambi Perché comunque Mi rendono molto Appunto I due personaggi Ma di per sé Dai possiamo dire Che questa qua da un euro La possiamo accettare Come costruzione generale Vediamo Quella da 10 euro Che ci deve assolutamente sorprendere Come costruzione di Tails Ci sta Il fatto che non sia finita sotto Non mi fa impazzire Però per esempio La pixel art funziona in questo modo Più mi allontano Più mi dividerà L'idea Che sia il personaggio Che dobbiamo pagare E che deve essere Esattamente quello E mi dà molto L'idea di Tails L'unica cosa Che a me non piace Nelle costruzioni Sono i blocchi Di pumpkin Quindi Di zucca Che non mi fanno Per niente impazzire Ragazzi Un'arancione che non mi piace Sono un po' deluso Fino ad oggi Quindi mi sento Un pochino truffato Ormai Dalle costruzioni A 10 euro Il che è un po' un peccato Perché io le metto sempre Come costruzione Diciamo centrale Per fare lo stacco Tra quella da un euro E da 100 euro Quindi Secondo me O questo costruttore qua Ha fatto una gran costruzione A 100 euro Oppure Chiederò per la prima volta Indietro i soldi Perché ok Quelle da un euro Erano carine Però cavolo ragazzi Questa qua è 10 euro Un po' Onestamente Mi ha deluso Vediamo ragazzi 3 2 1 Oh No Vabbè No Vabbè Ragazzi Credo che questa qui Sia una delle costruzioni A 100 euro Più belle A livello visivo Proprio espressione facciale Che abbiamo mai Visto E che ci hanno mai fatto Sapete che non so Se chiedere indietro i soldi Ragazzi Perché qua comunque Questo costruttore ha fatto Questa qui da 100 euro Che è spaziale Non so Io ho anche Che belli gli occhi Ci sono un sacco Di dettagli di Tails Che sono Veramente Veramente belli Guardate anche Che bella Che è la coda La doppia coda di Tails Super famosa ormai Che si collega direttamente Dietro Il fatto che sia Praticamente in modo Saltellante Come se appunto Stesse volando Con la coda di Tails Che erotia in cielo Poi il viso ragazzi Il viso Il muso Che figata Che figata Sarete voi A decidere Se dovrò chiedere In soldi indietro Per queste costruzioni Che ha fatto questo costruttore Ma Il Tails Da 100 euro Vale Veramente Tantissimo Andiamo con la sfida Numero 1 Campioni E la sfida Numero 1 È quella Di Ash Dato che Vi piacciono Sempre le costruzioni Di Pokémon Ho pensato Di fare Un tema Di costruzioni Sempre Pokémon Ma un po' diverso Come era stato Col Dragon Sharon Per Dragon Ball Quindi Ho messo Il tema Pokémon Ash E ragazzi Questo per esempio Pixel Art Mi dà molto L'idea Di giochi Vecchi Dei Game Boy Dove tutto quanto Era in una sola dimensione Tutto quanto piatto E quindi Ash Era esattamente Questo Quindi tra un piccolo Squirtle Ci sta E poi Le dimensioni E i tempi Erano completamente uguali Mi ricorda molto I tempi Quando giocavo Al Game Boy Mi piace Solo per il ricordo Che mi dà E la sensazione Che mi dà Di ricordo Di sensazione Proprio bella Mi piace Un euro Li vale tutti Andiamo in quello No Abbiamo fatto un Game Boy Con Ash dentro Cioè ragazzi Lo stavo dicendo Un secondo fa Dannazione Che figata Che figata Anche il Game Boy Voi ci avete mai giocato Al Game Boy Campioni Ditemelo questo Nei commenti Però in sé Questa costruzione Con Ash All'interno Che appunto Mi dà l'idea Di quello che vi dicevo prima Con appunto Lui in 2D All'interno Di un Game Boy Viola Mi dà un sacco Le fils Di quando giocavo A questo Game Boy Che figata Ma ha fatto anche La schedina del gioco No non ha fatto La schedina del gioco Dai peccato Molto carina Complimenti a questo Costruttore ragazzi Ha fatto un ottimo lavoro Per quella di 10 euro Li vale tutti Secondo me È la prima Costruzione di 10 euro Che oggi troviamo E che ci piace tanto Molto molto bene Mi sto spoilerando Quella da 100 Ma ragazzi Adesso andiamo 3 2 1 No vabbè ragazzi No vabbè Che figo Che figo Anche la Pokéball Ragazzi Guardate che bella Che è Questa diamine di Pokéball È una figata Poi Ash Cioè vogliamo parlare Di quanto è fatto bene Allora io Questa cosa qua Della faccia Fatta di legno Comunque devo Anche la pelle qua Perché è fatta di legno Vedete C'è questa piccola pecca Che purtroppo Sposta questa costruzione qua Di 100 euro Sotto le altre Secondo me Perché cavolo Fa le pelli Dei personaggi La pelle dei personaggi Ma Con il legno Che secondo me Non ha senso Ragazzi C'è la terracotta bianca Che praticamente È proprio il colore Della pelle Ma per il resto La costruzione Direi che è Una figata Cioè non c'è niente A dire ragazzi Guardate che Come sono fatte bene Anche le gambe In diagonale Che lanciano le pokeball Dietro qua c'è lo zainetto Colore pikachu Che Ma anche lo zainetto È messo in diagonale Cioè lo zainetto Non è di Praticamente dritto È un po' in diagonale Che figo Peccato ragazzi Per il colore della pelle In questo caso Di questa costruzione Perché In sé Averla fatta di legno Non rende appunto Il colore della pelle Di asce In questo senso Intendo Quindi È un po' un peccato Ma anche il gilet Di asce ross Fatto per bene Neanche le gambe Piede tutto quanto Molto figo E quale sarà L'ultimo tema Della sfida di oggi Quanti di voi Conoscono Rick e Morty A me È piace Veramente tantissimo È un cartello animato Che mi ha sempre Passato tanto Devo riprendermi un pochino L'ultima stagione Ma Qua davanti Abbiamo Rick Guardate che figo Già la costruzione Da un nero Che non era una pixel art Mi piace tantissimo Lui è praticamente Un signor anziano Per chi non conoscesse Questo cartello animato Un po' pazzo Un po' pazzo Anziano Con questi capelli Super azzurri E questo monociglio gigante Azzurro E mi piace Tantissimo Già la costruzione Da un euro Anche la bocca Ha fatto Che si può entrare All'interno No Che figo E questo dovrebbe essere la lingua E i denti No No ragazzi I denti ci sto facendo a casa solamente ora Che sono dei banner Molto carino Questa Per ora E per oggi È la costruzione Che secondo me Da un euro È la prima di tutte quante Però Ditevi in questo In i commenti Cosa ne pensate Andiamo in quella Da dieci euro Che figo Ragazzi Questa qua È un po' tipo La bavetta di Rick Perché ha questo problema Che ogni tanto Sbava un pochino Non so perché Ed è figo Diciamo che è proprio Un level up Cioè si passa Da questa qui Da un euro Un po' piccolina Con le gambe Un pochino strette Piccole A questa qua Da dieci euro Che è appunto Il level up È la costruzione Un po' più grossa Mi piace tantissimo Ragazzi Ha anche le braccia Il fatto che sia tutto quanto In movimento Bello anche Il camice dietro Che fa tutta quanta La curva Carino ragazzi È dieci euro Sono curioso di vedere Appunto il salto Che fa da Uno dieci A cento Bello ragazzi Che figo Cioè si vede Posso fare una cosa Che non ho mai fatto In questo video De costruzioni Guardarle da lontano Si vede proprio Il livello Di costruzione Che passa Da un euro A dieci euro E a cento euro Che figo ragazzi È proprio bello Questo Rick qua È bello 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 L'unica cosa Che non mi convince tanto È il fatto che la faccia Sia super schiacciata Non capisco Come mai in questo caso Il nostro amico costruttore Ha fatto una faccia Che è iper schiacciata Non so come farvelo capire Ma è molto tonneggiante Qua per esempio Non ha quasi un naso Ma il resto Della costruzione Diciamo che è un bel level up E quella è una famosa pistola Che utilizza Rick Per passare Dalle varie dimensioni Per fare un sacco di cose Che figata Oggi Abbiamo visto Solo Costruzioni Veramente bellissime Bellissime Alla prossima Grazie a tutti